Cari amici, è ancora un po' prestino certo per la pallavolo e pallacanestro locale, ma le nostre società, e parlando in particolare di pallavolo, della Lavinia Gruppa Adriati Cavallo e Trani, la squadra, anzi la società del presidente Mimmo Cosentino ha confermato tutto lo staff tecnico che ha praticamente tirato su già dall'anno scorso, due anni fa, una società solida a livello organizzativo, gestionale, soprattutto di giocatrici di qualità, ovviamente l'affidamento in panchina della squadra è fatto per l'ennesima volta, direi, al benemerito mister Mauro Mazzola, complimenti a te Mauro per questa tua grande qualità come allenare una squadra che praticamente partendo, facendo i primi passi, quindi partendo dal basso e lavorando in maniera dura ed esemplare è arrivata fino alla serie B2 dove la stessa Adriatica Vole e Trani giocherà nella stagione che si presume dovrebbe iniziare nei primi giorni, cioè nella prima decada di novembre 2020 ovviamente, ricordando però che il sodalizio bianco-azzurro del coach Mauro Mazzolo era piazzato al sesto posto in classifica fino a che poi, sappiamo tutti, con l'avvento della pandemia del Covid tutto si è bloccato, si è sospeso, anzi si è annullato, quindi che dire, forza ragazze, dai damoci dentro, sulla pagina Facebook che consiglio di andare a visitare dell'Adriatica Vole e Trani, la Vigna Group, è stata già annunciata una prima riconferma per quanto riguarda il roster, si parla, anzi è stata riconfermata Sara Binetti, ovviamente a piccoli passi verranno svelate le altre riconferme e chissà magari qualche innesso che di certo male non potrà fare, quindi viva la pallavolo, viva lo sport, viva l'Adriatica Vole e Trani, dai che sembra a Dio piacendo di tornare a tifare Adriatica Vole e Trani, di rivedere voi, pallavoliste straordinarie in campo e dalla panchina, Mauro Mazzola, grande mister, grande coach, quindi io con questo vi do il mio saluto e vi auguro buon ferragosto a tutti quanti, a tutto il gruppo praticamente, associazioni di qui di tu senza escludere nessuno, di nuovo viva la sport, viva la pallavolo e forza Adriatica, ciao a tutti, ciao!